Sì, un progetto veramente molto importante, l'insegna della musica, un progetto che è coordinato dalla regione Poscane che vede nella città di San Giovanni la scuola Polo e la rispa delle scuole del Valdardo Ritino e del Valdardo Fimentino sia scuole del primo ciclo che scuole secondarie e superiore. Siamo particolarmente orgogliosi di questo pubblico di ospitare nella Pieve la presentazione ufficiale del progetto alla presenza del direttore scolastico regionale Ernesto Pellecchia e alla presenza poi delle scuole del Valdardo Ritino e Fiorentino e soprattutto la presentazione di chi coordinerà questo importante progetto trasversale a tutti gli indirizzi scolastici che sarà il maestro Andrea Curini, direttore artistico dell'Accademia Musicale Valdarnese. Per noi a San Giovanni Valdardo scuole e cultura sono un binomio su cui stiamo investendo dall'inizio del nostro mandato amministrativo e questo progetto che li combina insieme sicuramente è un passo avanti molto importante in questa direzione. Sì, è particolare ma sinceramente sono felicissimo e sono anche molto curiosito e ho una grande energia e una grande voglia di fare musica insieme a tutti i miei colleghi musicisti di questo grande gruppo dell'Arisma e ai dirigenti scolastici tutti quanti e soprattutto insieme a questi tantissimi studenti di queste 17 scuole che si dedicano alla musica, si avvicinano alla musica e fanno musica poi di vario genere però sicuramente un'esperienza forte, bella per me che affronto con grande entusiasmo e anche molta curiosità proprio sinceramente, quindi darò anima e poco per questa cosa perché credo che sia di grande arricchimento anche per me, per mio figlio uomo e per me non c'è.